FAMO NA STRAGE Benvenuti in Kiwi Bello ragazzi a tutti i shogari Benvenuti e bentornati Complimenti Complimenti ragazzi Perché siete tornati in questo Nuovissimo video Su Fortnite Questo gameplay un po' Particolare un po' strano Su Fortnite e quindi ragazzi Prima di iniziare ricordate Di iscrivervi al canale Attivare la campanella, mettere il like, commentare Tutte le cose che dovete fare sempre Mi raccomando ragazzi Aspetto a voi Quindi iniziamo subitissime Perché come avete letto dal titolo Oggi Vada a fare una strage Su Fortnite Tutte le cose che vedo Che si muovono Gli sparo contro Tutti, voglio vedere Quanti secondi duro Vivo Prima di morire centinaia di migliaia di volte Credo Che sicuramente andrà a finire così Quindi Iniziamo subitissimo ragazzi Iniziamo subitissimo Perché sono un po' curioso di vedere Quanta gente Ne va fuori In pochi secondi Oh Allora Vediamo Vediamo Connessione Connessione in corso Allora Vediamo cosa mi capiterà Eh Qua famo subito una strage Famo Come Come ci devono buttarci Buttiamo subito Iniziamo a sparare A destra A manca Vediamo cosa succede Allora Vediamo subito Se magari si connette Ecco Capitolo 3 Stagione 2 Gioca ora Oh Perché? Ma io volevo il maschio Volevo Non per niente contro Le donne Assolutamente Però Volevo il maschio Perché? Volevo il maschio Non sei ponte Dicono Devi usare questo E userai E devi usare questo Per forza Vabbè E Ok E quindi Vabbè Giochiamo Andiamo così Oh Facciamo subito Così Subito Subito Buttiamoci Subito Ando sta così Per buttarsi Dai Buttiamoci Subito Vai Così Oh Impicchiata Proprio Proprio Impicchiata Così Impicchiata Andiamo subito Così Come un missile Come un missile Così Impicchiata Proprio E apriamo il coso Oh Andiamo di scendere Così Il cazzo Che mi stacco Non era così Che doveva andare Ma Oh Ho proprio Record Record In Battibilità Sub Immediata Proprio Ma perché mi fa vedere Sta tipa qua Allora Facciamo così Vado Prima Una parte Dove c'è Poca gente Mi pievo Qualche fucile E poi Vado a fare La mattanza Vabbè Preparamose Preparamose Così Dai Non è stata Una buona idea Andare subito Al mezzo Al campo Di battaglia Per niente Proprio Quindi andiamo Una parte Isolata E poi Prendiamo Il primo fucile E poi andiamo Ad ammazzare Più gente Possibile Corpiccone Non si può Fa granché Diciamo Oh Niente Allora Buttamos Ok E qua Ne Sta cosa qua Mi piace Così Oh A posto E qua No 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ok, ok, quindi diciamo la mongolfiera no, diciamo devo prendermi prima un'arma decente prima di iniziare a fare... La tisopra la terza volta è quella più buona, la faremo la terza volta? Speriamo, speriamo. Minchia ragazzi, so proprio una pippa, so. Vabbè. Allora. Tiè, iniziamo da sempre. Ma perché sta già rosso qua? Perché è rosso? Boh, vabbè. È rosso? Non so se è per il telefono che si è rotto il telefono. Non credo che si è rotto il telefono. Vabbè, non lo so perché è rosso. Ah, qua mi è stata una traiettoria strana questa daccio, eh. Non posso andare... Vado così, vado, eh. Vai, nel verde, nel coso più totale, dove non si sa che ci sta. Allora, a posto, così. Allora, il primo obiettivo è prendere un'arma, ok? Allora. Quanto durerò qua? Sì, vabbè, qua già mi stanno a sparare addosso. Ma fatemi più a un fucile, che cazzo. Allora. Allora. Piamo se è un fucile, da qua. Vediamo, ci sta qualcosa dentro. Qua non c'è sta un cazzo di niente, non c'è sta qua dentro. In queste tende non c'è sta niente, raga. Mi devo piare qualche arma, mi devo piare. Assolutamente. Allora. Ci sta... Oh, questa mi piace. Oh, munizioni. Oh, mi serve un fucile, mi serve però. Oh. Si Proprio così devi andare Sta per baule Che in sto baule di sotto c'è sempre qualcosa di Di importante Oh esattamente Così, proprio giusto Tutti giusto Mi fa più un fucile Ho preso sto fucile A posto, ma possiamo andare Due corsi Possiamo andare Ad ammazzare qualcuno Vediamo chi è che c'è sta In sta casa Ma c'è sta niente di che Io voglio fare una strage Dove andare ad uccidere qualcuno Magari senza consumare le munizioni Vasta non so cosa Grazie a tutti ci sta un mezzo una cosa sono sceso nella parte più più isolata del mondo ah qua vedo una bella macchina questa cosa qua vedo una cosa un fucile strafico è lo stesso che abbiamo già e che è qua raga allora questo ma io ho preso è band ma che a me faccio del band questo è questo un lancia un cuore no raga doppia il fucile è grosso doppia a posto ora più la macchina un'altra 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 No! Ma perché? E niente, è passato così. Vabbè. Santuario, ma che è questa cosa? Ormai sto andando proprio contro la cosa che non dovrei andare, contro la tempesta velenosa che questa è la tempesta così che mi ammazza. Vabbè. 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 dai forse non era il caso diciamo e vabbè e vabbè ragazzi è andata così è andata oggi un flop totale oggi un flop totale e niente ok basta così diciamo ok e niente ragazzi quindi posizione finale 25 25 non so perché forse in base alle cose che ho preso vabbè ho cercato di ammazzarne uno ma in realtà non ci ho provato e mi hanno ammazzato a me tre volte la terza volta è quella buona no 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 quindi se vediamo alla prossima volta con che magari mi mi sperando che mi vada un po' meglio speriamo speriamo nel frattempo ragazzi voi commentate qua sotto se siete bravi a fortnite commentate qua sotto su varie tecniche che posso usare così anche se non è che credo non credo ci siano così tante tecniche da usare a fortnite prendi e spari ammazzi la gente però vabbè non si sa mai quindi commentate commentate qua sotto e ditemi come posso muovere e quindi ragazzi ci vediamo noi al prossimo video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e mi raccomando showgari 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 showgari